e con i caravaggi dentro, a noi si era venuto a posto, si è fatto un brutto effetto effettivamente, però, tra parte se il sacerdote si è ammalato, credo che sia una precauzione doverosa. Tristezza, quanta tristezza, è bellissimo questo posto, io ci lavoro vicino, non ero mai entrata, ma è bellissimo. Oggi vederla a cura è chiusa, è un tuffo al cuore, veramente. Sì, sembra che è un periodo scuro, anche per Italia in questo momento, ma c'è sempre la luce che torna in Caravaggio e speriamo che la luce torna in Italia. Sì, sembra che la luce torna in Italia,